Ben trovati, ben trovati in diretta su Telequattro, c'è l'amico Saul Cirioco, biologo della riserva marina di Miramare, buongiorno e bentrovato, è sempre un piacere avverti con noi. Buongiorno. Allora, il tema è quello delle specie marine e in particolare degli squali, partiamo da un caso di cronaca, nel senso che è stato pescato in golfo uno squalo volpe di 4 metri durante una battuta di pesca al tonno e ovviamente l'occasione per parlare un po' degli squali nei nostri mari, della situazione del nostro mare e anche di altre iniziative della riserva marina di Miramare. Io ho scritto Saul, non so se sei d'accordo, squali in Adriatico, specie da proteggere, non da temere perché va un po' sfatata la nomea dello squalo che fa del male all'uomo e invece è molto spesso l'uomo, anzi quasi sempre, a far del male allo squalo. Non so se dirmi stupito dell'essere d'accordo con te, ma sono incredibilmente d'accordo con te, lo siamo in tantissimi, lo siamo i ricercatori, lo sono le associazioni ovviamente che difendono gli squali, ma anche credo molta della popolazione e anche in realtà molti operatori del mare ed è il motivo per il quale tuteliamo gli squali. In realtà sono oggetto spessissimo di pesca, per esempio, ma non come target principale, quindi non come obiettivo principale, ma come bycatch, quindi come una cattura accessoria della quale molto spesso non si sa cosa fare e quindi molto bene hanno fatto i nostri amici che pescavano il tonno, in realtà liberarlo immediatamente e quindi riconsegnarlo al mare. Tanto più con una specie così grande come questo squalo volpe di 4 metri, perché si tratta di evidenziare anche il grande ruolo che hanno animali così grandi in termini per esempio di pulizia del nostro mare. Sono animali che ovviamente si cibano in particolare di pesci in questo caso, ma anche di animali che stanno in sofferenza, quindi possono essere molto utili al nostro ecosistema. Tra l'altro ha una specie bellissima lo squalo volpe perché ha questa lunghissima coda che usa proprio come strumento di caccia. È una specie di frusta che utilizza in mezzo ai banchi di pesce per catturare, per stordire e catturare ovviamente gli esemplari che gli servono per mangiare. È stato catturato abbastanza a largo, quindi in una situazione anche idonea al suo modo di nuotare e di vivere ed è sicuramente una specie che non dobbiamo considerare aliena del nostro mare perché in realtà ci sono moltissimi avvistamenti, moltissimi, un certo quantitativo di avvistamenti negli ultimi anni che ci indicano che questa specie è ancora presente nel nostro mare. 2019, 2016, 2005 sono solo quelli di cui sono a conoscenza io, ma probabilmente molti pescatori ne avranno catturati in altre occasioni. Certo, e tra l'altro insomma tutto collegato credo al tema del pesce azzurro che risale l'Adriatico e porta i predatori, quindi i tonni che sono la specie per cui si va a pesca in questo periodo e ovviamente gli squali e non solo. Diciamo sì, le catene alimentari, cioè questo elemento così complesso che stai disegnando, quindi dal pesce piccolo fino al pesce grande, sono un segnale in generale di buone condizioni. È evidente che nel periodo estivo comunque la presenza sotto costa anche di più pesce facilita la presenza di alcuni predatori come in questo caso lo squalo. Certo, questo è proprio nello specifico il video dei quattro ragazzi che l'hanno pescato è liberato in questo caso tagliando la lenza, ovviamente liberarlo nel modo più diciamo meno impattato per lo squalo, significherebbe portarlo sotto bordo, slamarlo, ma è ovvio insomma che magari non tutti hanno né il coraggio né magari la perizia per poterlo fare. Proprio di questo ci occupiamo, è uno dei task di lavoro, quindi è uno degli obiettivi di lavoro che abbiamo con il nostro progetto che si chiama Life of Shark, un progetto finanziato della comunità europea per la conservazione degli squali che ha nella stazione Anton Dorn il capofila, uno degli obiettivi principali è quello di spiegare come trattare gli animali una volta che per bycatch, quindi per pesca accessoria, siano stati catturati sia da pescatori professionali o come in questo caso da pescatori sportivi. In questo caso bisognerebbe diciamo così fermargli la coda? Stiamo preparando delle schede e faremo delle attività di formazione, vi invitiamo anche a fine agosto alla mostra sugli squali che faremo sulle rive e durante la quale ci sarà l'occasione di fare delle brevi introduzioni su come trattare gli squali e non soltanto gli squali ma in generale tutti i cartillaginei quando ci viene a contatto con loro. Anche perché normalmente magari sono dei gattucci, delle cose più piccole che magari si riesce a gestire anche con più facilità, anche se in realtà nel nostro mare per esempio non mancano le verdesche che sono squali comunque che possono dare adito a qualche pensiero e quindi sapere come approcciarsi a questi individui è sicuramente un'ottima cosa sia per i professionisti che per gli sportivi. Tra l'altro poi intanto ben si abbina al nostro studio l'argomento perché in tema marino quindi insomma vedete come ci sta bene lo squalo volpe in mezzo a noi, ci sono stati anche altri avvistamenti, vado da questo che poi deve essere confermato da esperti ma ha fatto il tam tam sul web nel mese di marzo nella Dalmazia bassa diciamo così per non entrare meglio nel dettaglio di questa pinna che poteva essere di uno squalo bianco anche se c'erano perplessità, comunque insomma c'è anche questo tra le segnalazioni che arrivano dall'Adriatico insomma no? Sì, ci sono squali più pericolosi, meno pericolosi come si suole dire diciamo, gli individui comunque in natura, in generale tutti gli animali in natura vanno tenuti a debita distanza quindi soprattutto quando sono di una certa dimensione, indifferente che tipo di animali siano anche se fossero come è capitato qualche mese fa dei cetorini, quindi degli animali che all'uomo assolutamente in nessun caso potrebbero fare alcun danno, però si tratta di animali che vivono appunto in maniera selvaggia quindi non c'è la necessità di avvicinarsi troppo se non per curiosità ma si rischia di danneggiare loro e magari di causarsi qualche problema. Tra l'altro uno pensa allo squalo bianco, dice beh cosa c'entra con noi, ricordo un bellissimo articolo di Pietro Spirito sul quotidiano Il Piccolo che era andato negli archivi a far vedere come venivano pescate le cagnazze che venivano chiamate così in dialetto più istriano che triestino in realtà e che popolavano tra il 700 e l'800 in nostri mani in maniera proprio importante, ora è un avvistamento clamoroso, all'epoca era... Non dimentichiamo la presenza al Civico Museo ovviamente dell'esemplare di Carlotta che è un esemplare davvero notevolissimo accompagnato da una didascalia sugli squali ed una serie di informazioni sugli squali che non possono mancare in una città come la nostra. Certo, questi sono invece gli squali elefante che capita spesso anche qui l'avvistamento in golfo di loro e sono assolutamente innocui. Sono assolutamente innocui, il loro avvistamento... Questo no, questo è un manco tutt'altro vicino a Cerso. Nel nostro Adriatico, in particolare quello alto, negli ultimi anni ce ne sono stati diversi ma i colleghi sloveni mi dicono che mediamente loro uno all'anno lo vedono sempre. E sono questi qua riconoscibili anche delle due pinne anche a diciamo a bassa velocità mi vede a dire, no? Molto lenti. Questo era un esemplare anche molto grande perché comunque era un esemplare di circa 8 metri quindi sicuramente importante. Dopodiché per un non esperto che magari con una barchetta fuori insomma fa comunque una certa impressione diciamo se uno non si rende conto di cosa si tratta. Ecco questa è un po' la panoramica diciamo sul tema squali. Mi dicevi di questa mostra in arrivo molto interessante a Trieste? Sì, nell'ambito di una settimana che il il WWF nazionale dedicherà al mare insieme ai colleghi del progetto Life of Shark che visto che anche il WWF si occupa di squali come il progetto Life of Shark abbiamo pensato di realizzare una piccola mostra sul tema degli squali. Quindi stiamo organizzando grazie al supporto del Comune di Trieste quindi dei civici musei stiamo organizzando la possibilità di avere degli esemplari ovviamente taxidermizzati presenti e ci sarà una cartellonistica oltre ad alcuni eventi di presentazione di video realizzati da Eleonora De Sabata che è una collega giornalista che si occupa in particolare di tutela degli squali e che nell'ambito del progetto Life of Shark sta promuovendo e supportando la tutela di questi animali anche quelli di cui normalmente ci nutriamo. Prima hai citato i gattucci ma anche i cagnetti, lo spinarolo, il palombo, sono tutti squaliformi che a causa della nostra necessità alimentare in qualche maniera sono stati sono andati in sofferenza come popolamento anche nell'Adriatico quindi c'è una certa necessità di cambiare le nostre abitudini alimentari e anche le nostre abitudini di pesca. Certo allora devo farti una serie di domande parto dalla prima che è quella più popolare cioè il tema mucillagini come hanno impattato anche sull'ambiente marino ora pare la situazione sia in fase di risoluzione anche se è un fenomeno naturale ricordiamolo. Sì e peraltro non possiamo mai dire che si sia concluso possiamo dire che è in una fase nella quale si è completamente disciolto o parzialmente disciolto in gran parte disciolto l'accumulo di mucillagini che era presente anche quello che era presente sul fondo quindi da oggi da stamattina ero in acqua meno di due ore fa si può godere di un mare molto trasparente in realtà abbastanza desueto rispetto all'ultimo mese quanto mai fresco rispetto alle ultime temperature abbiamo toccato i 30 gradi in superficie non più tardi di qualche giorno fa e quindi è un mare assolutamente godibile sotto restano però i segni di una sofferenza una sofferenza dovuta alla temperatura che ha causato lo sbiancamento di alcuni coralli naturali come la claudocora cespitosa ma anche la morte a causa di solfobatteri di molte spugne tra cui le spugne nere che sono quelle che stiamo monitorando per verificare diciamo gli effetti dei cambiamenti climatici in un mare come il nostro che è così poco profondo e che quindi così tanto è suscettibile alle variazioni di temperatura e di salinità purtroppo. Quindi diciamo che la combinazione alte temperature alghe è stata è stata letale per diverse specie però diciamo la ripresa dove le condizioni dovessero ritornare normali non crediamo che non possa avvenire. Mi raccontavi prima di iniziare che ci sono stati degli avvistamenti interessanti quanto a specie all'octone diciamo così nei nostri mari. Sì specie che comunque non sono così presenti come è capitato con le anguille con le lamprede quindi ci sono molti turisti la presenza di tantissimi turisti quindi tante persone che vivono sulla spiaggia che stanno sulla spiaggia a guardare magari col secchiello aumenta il numero degli avvistamenti in questo caso il numero di avvistamenti anche di pesci che magari normalmente non siamo abituati a vedere così sotto costa probabilmente anche quello è un elemento legato a questa straordinaria temperatura che era che era presente nelle ultime settimane. L'altra domanda relativa al tema tartarughe perché c'è stato rinvenimento se non sbaglio di una tartaruga morta però insomma è un'altra abitante insomma dei nostri mari che... Sempre più frequente direi sempre più frequente gli avvistamenti sono sempre molto numerosi e ovviamente insieme agli avvistamenti alla frequentazione in mare può capitare di avere di avere sicuramente degli incidenti. Un avvistamento sicuramente molto curioso di questi ultimi mesi che non ha molto a che vedere con le tartarughe però ha a che vedere con gli squali che mi ero dimenticato di dire prima e l'avvistamento di tantissime vaccarelle tantissime aquile di mare questo è un effetto diciamo che stiamo vedendo negli ultimi anni nel nostro golfo di trieste probabilmente legato alla diminuzione delle attività di pesca nel senso che la pesca è nel golfo di trieste un settore fortemente in crisi quindi ci sono sempre meno pescatori e se ne avvantaggiano le specie che in qualche maniera era un oggetto di bycatch come dicevamo quindi di pesca accessoria e probabilmente nell'ultimo mese abbiamo avuto occasione di vedere diversi momenti riproduttivi di aquile di mare e di vaccarelle proprio legate proprio nella zona delle mitilicolture che evidentemente è un luogo che si presta molto bene all'atto riproduttivo sapremo i risultati di questa riproduzione alla fine dell'anno cioè alla fine del periodo di gestazione quindi insomma anche la riproduzione nei nostri mari e quindi anche più più esemplari per il futuro sì questo conferma comunque l'alto adriatico e il golfo di trieste come un luogo di elezione per la riproduzione in generale di tutti i cartillaginei lo è sempre stato per le verdesche lo è sempre stato per i gattucci per i gattopardi per i cagnetti ma lo è sicuramente anche per le aquile di mare e per le vaccarelle ci assomigliano molto ti chiedo ancora una cosa riserva marina di miramare durante l'estate ci sono i centri estivi ci sono attività di snorkeling guidate ci racconta anche di questo perché chiaramente ci si incuriosisce parlando di questi argomenti e dare a vedere la riserva marina sott'acqua è una cosa strepitosa sì le attività di visita continuano ci sono attività di snorkeling quindi sono aperte a tutte le famiglie è sufficiente prenotare allo 0 40 22 41 47 trovate i numeri e riferimenti sul sito internet di miramare www.ampemiramare.it è possibile prenotare visite subacquee quindi con autorespiratori ad aria non si usano miscele a miramare ma miramare è molto impegnata anche in alcune attività di citizen science e quindi di scienza del cittadino ovvero stiamo cercando supporto non solo dai subacquei che ce lo danno normalmente ma anche dai semplici cittadini che abbiano voglia con noi di monitorare per esempio la diffusione della presenza di pinna nobilis di cui abbiamo già parlato alcune volte una specie a rischio il più grande mollusco del mediterraneo stiamo organizzando ci sono già domani ma ogni settimana organizziamo delle visite è sufficiente chiamare in segreteria per prenotarsi e venire con i nostri ricercatori a provare a fare qualche azione di monitoraggio assieme a noi beh insomma bello insomma poi aperto a tutti insomma sì è assolutamente aperto a tutti dai bambini agli adulti chiaramente quindi è possibile farlo con molta semplicità perché sono attività di fatta in bassissimo fondale e quindi è sufficiente maschera pinne e boccaglio benissimo quindi insomma un'altra possibilità in più per scoprire il nostro mare tra l'altro in un tratto di costa in cui ve ne rendete conto facilmente velocemente si vede una quantità di fauna marina no che è difficile vedere in altri tratti veramente qualcosa di eccezionale grazie al nostro amico sal ciriaco biologo dell'area marina protetta dei miramare per essere stato con noi e averci raccontato qualcosa in più rispetto agli squali in adriatico nel nostro golfo e non solo restate con noi perché le 13 e 20 c'è il telegiornale con tante notizie tra poco grazie a tutti ben trovati ben trovati nella nuova edizione del telegiornale meridiano di telequattro questura al lavoro per istituire una task force che si occupi di piazza perugino troppi casi di violenza nella zona durante la notte al vaglio ci sono anche i tanti video mandati in onda dalla nostra emittente nell'ultimo periodo andiamo a sentire il servizio di Gianluca Paladì una task force per piazza perugino ancora nulla di attivato ma le forze di polizia hanno puntato la lente di ingrandimento su un luogo che ormai da anni sta facendo impazzire i residenti ma anche gli operatori delle forze dell'ordine e ora la questura vuole invertire la rotta e riportare alla calma la vita notturna del quartiere risse liti minacce schiamazzi e urla per tutta la notte le pattuglie di carabinieri di polizia si ritrovano a monitorare la piazza anche in chiave preventiva ogni sera ma appena gli operatori delle forze dell'ordine lasciano luogo ecco che la zona torna a essere invasa da soggetti di tutti i tipi italiani e stranieri di ogni età l'ultimo episodio violento la lite nella notte fra mercoledì e giovedì della scorsa settimana due ragazzi si erano presi a pugni in mezzo alla strada niente in confronto ai tanti e clamorosi episodi dei mesi scorsi e degli ultimi due anni con tanto di ammanettamento della polizia sotto gli occhi dei residenti sembra che tutto parta da un noto locale etnico della zona peraltro già chiuso dalla questura nel recente passato l'abuso di alcol a tutte le ore della notte con anche protagonisti ragazzi minorenni è il fautore di tutti questi disordini in questa estate triestina piazza perugino torna prepotentemente alla ribalta della cronaca ma un giro di vite è alle porte già un'azione mirata delle forze dell'ordine l'avevamo vista lo scorso maggio con dei controlli tra quelle siepi dove alcuni indagati per fatti gravi quali risse a coltellamenti rapine nascondevano coltelli e gli ascoltatori ricorderanno un martello e spray al peperuccino utilizzati per intimidire le vittime ma la questura ora vuole un'azione mirata sulla piazza per scongiurare altri episodi violenti intanto i residenti di piazza perugino sognano di poter tornare a dormire la notte sono stufo di risse a coltellamenti ora basta colpiremo duro e questo il commento del sindaco di trieste roberto di piazza sulla questione piazza perugino appena sentito proprio dalla nostra emittente sindaco i cittadini di piazza perugino tornano a lamentare i disordini che partono da quella zona sembra che la questura ci voglia vedere chiaro forse sarà argomento anche del prossimo comitato sulla sicurezza di fatto i cittadini la notte sono tornati a non dormire più eppure avevate quasi risolto quel problema in passato stiamo lavorando anche lì con quest'ora ha chiuso adesso un locale per 60 giorni pensate ha chiuso un locale in piazza garibaldi da quelle parti per 60 giorni stiamo lavorando naturalmente abbiamo questi extra comunitari che devono capire che sono ospiti e devono adeguarsi alle nostre leggi e non fare quello che vogliono coltelli bastonate eccetera eccetera perché a quel punto cominceremo anche noi andare duri allora c'è un altro episodio invece che riguarda via Carducci un episodio di violenza in città complice all'abuso di sostanze alcoliche come si vede nel video registrato da Trieste Caffè per l'ennesima volta la polizia di stato e l'esercito sono dovuti intervenire in zona via Carducci pare che l'aggressione sia partita da due cittadini di origine sudamericana le vittime dell'episodio sono tre ragazzi triestini il fatto è avvenuto alle 5.30 quando i residenti hanno lanciato l'allarme a causa delle grida degli schiamazzi che provenivano dalla strada dopo 20 minuti l'intervento di militari e poliziotti che hanno sedato la lite parte oggi invece in collaborazione con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia la campagna antincendio boschivo per i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia di tutta la regione da oggi in orario 8.20 tutti i quattro comandi della regione operativa una squadra con personale in turno straordinario dedicata all'antincendio boschivo squadre che sono dotate di mezzi fuoristrada oltre a essere pronti a intervenire in caso di incendi di vegetazione eseguono anche dei giri di perlustrazione e controllo del territorio ovviamente i fatti accaduti di recente nella vicina Slovenia hanno alzato il livello d'allarme anche in Friuli Venezia Giulia andiamo sulle rive di Trieste con la conferenza stampa questa mattina del gruppo consigliare comunale di Adesso Trieste ma anche di quello regionale di patto per l'autonomia circa la situazione della pista ciclabile il servizio però non è ancora pronto allora andiamo a vedere quello invece di Bernardo Gulotta che riguarda invece la spiaggia di Castelreggio perché questa mattina in diretta a Sveglia Trieste il sindaco di Duina Orisina Igor Gabrovec ha promesso importanti novità sentiamo Lo aveva detto pochi giorni dopo essere diventato sindaco di Duina Orisina e lo ha ribadito anche oggi a Telequattro uno degli obiettivi di Igor Gabrovec è quello di un restyling dello stabilimento Castelreggio cui progettualità erano partite prima del covid poi interrotte per la crisi dell'imprenditore privato ora un nuovo tentativo con un project financing La vera sfida è sicuramente Castelreggio prima del covid è stato iniziato un ragionamento di un investimento di un progetto di partenariato pubblico privato quindi un project financing l'abbiamo ripreso in quanto ha avuto un incaglio l'imprenditore che l'aveva proposto è andato in crisi ha lasciato un bel buco abbiamo ripreso però non abbiamo buttato via il progetto ma l'abbiamo ripreso attraverso un nuovo proponente che sta adesso formalizzando la proposta a distanza di qualche anno un po' modificata comunque contiamo di riportare in consiglio comunale già nei prossimi mesi una proposta modificata e in ogni caso passata l'estate pubblicare la gara il bando di gara che dovrebbe vedere un investimento in due anni di diversi milioni di euro per una concessione che si allungherà fino a 30 anni non solo Castelreggio ma anche i chioschi di Sistiana Mare che da moltissimi anni non sono stati ritoccati sia riguardo le strutture che per i criteri di concessione altra sfida i chioschi bar anche quelli di anno in anno li autorizziamo soltanto con dei permessi temporanei dei bandi che sono annuali o biennali di soltanto 120 giorni consecutivi sono più simili a una baraccopoli che ha un'immagine coordinata che dovrebbe essere rivolto un po' al futuro anche lì avevamo un progetto una proposta di privati quindi un nuovo project financing il privato che investe a fronte di una garanzia di concessione pluriannale anche quel progetto è stato più volte modificato ha avuto due passi avanti tre indietro stiamo pensando se non si presenta una proposta davvero convincente li facciamo noi il comune potrebbe pensare di fare immaginare fare un progetto di chioschi coordinati belli da vedere accoglienti interessanti anche per chi viene a gestirli e poi pubblicare un bando per la gestione. Bene ci colleghiamo ora con la località carnica di Venzone c'è il nostro Omar Costantini sul luogo dell'incidente che è avvenuto sulla strada Pontebana tra i feriti tra gli otto feriti c'è anche un triestino a te Omar. Sì grazie Marco siamo proprio lungo la statale Pontebana come hai detto tu all'altezza di stazione della Carnia al chilometro 168 proprio progressiva 400 per essere precisi all'imbocco della galleria naturale anzi artificiale che è stata costruita negli anni 70 come variante alla stessa strada statale. Sta di fatto che un furgone stava sopraggiungendo dal lato opposto in direzione Udine condotto da una donna di 40 anni residente alla Spezia a bordo del quale c'era anche un triestino sempre quarantenne e due bambini di 5 e di 3 anni. La donna ha perso il controllo del mezzo forse per un malore e ha centrato due auto entrambe austriache con a bordo una donna di 55 anni e uno alla guida invece dell'uomo di 57 anni e nell'altra macchina alla guida un uomo di 62 e accanto una donna di 60 anni. Otto feriti sono stati trasferiti in ambulanza a Udine e a Tolmezzo per fortuna non sono in pericolo di vita sul posto per i rilievi di legge il radiomobile di Tolmezzo. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, il sinistro è accaduto intorno alle 16 di domenica 21 luglio per permettere poi ai mezzi di soccorso la rimozione insomma delle auto coinvolte. Dicevamo otto persone tra queste anche un triestino di 40 anni per fortuna sono fuori pericolo di vita. Ulteriori dettagli nel corso della prossima edizione del telegiornale. A tre Marco la linea. Grazie, grazie Omar, grazie per il collegamento dalla Carnia. Torniamo invece a Trieste per collegarci invece con la sala operativa della polizia locale per i dettagli sulla situazione traffico, viabilità, altre segnalazioni per la giornata dopo un weekend che non ha visto particolari problemi. Ve ne abbiamo raccontati quelli che sono verificati effettivamente ieri nel telegiornale del nostro Umberto Bosazzi. Dobbiamo ancora attendere un attimo, forse meglio rimandare il collegamento con la sala operativa della polizia locale, ditemi voi se ci hanno già risposto oppure se facciamo tra poco, se no io passo al prossimo servizio che abbiamo preparato, circa la diretta di sabato in quel del stabilimento balneare Ausonia per l'Olimpiade delle Clanfe. Andiamo con questo allora. Torna anche quest'anno sotto le quattro la diretta della manifestazione dell'Olimpiade delle Clanfe organizzata dall'associazione Spitz, appuntamento sabato 13.40 e domenica in replica alle 21. Let's go! Prima Olimpiade delle Clanfe, 84! L'Olimpiade delle Clanfe organizzata dall'associazione Spitz in diretta su Telequattro sabato 27 luglio alle 13.40. Esattamente come l'anno scorso potrete godervela direttamente da casa. Poi se vi siete tuffati o volete rivedervi oppure vi siete persi l'appuntamento c'è la replica domenica 28 luglio alle ore 21. Tuffati con noi nella manifestazione più divertente, scansonata e colorata dell'estate triestina. L'Olimpiade delle Clanfe in diretta su Telequattro. Occhio! Anche da casa il rischio di essere inondati d'acqua c'è e allora andiamo a vedere il meglio della scorsa edizione. Daghe, numero 100 Paolo Sassetti. Daghe, Daghe, 8! Allora, devo dire, con Ciappano, via Pimonte Grisa, i morti mi sorridi e le caprette mi facciano. Super! 111, 5, 10, 15, 20, 25, un piede, schizzo, 25, morbi, 5! Un plane! Per la prima volta il cameraman del Telequattro nelle riprese del Telequattro. Sì, bravo! Daghe, tolgo Torricella. Peccano, gambello in cara. Allora, chissà che dopo Franco Torricella di Telequattro non ci sia anche qualcuno della polizia locale che magari quest'anno partecipa all'Olimpiade delle Clanfe. Che ne dici, Degrassi? Buongiorno, buongiorno a tutti. Direi che io più che clanfe ero bravo in bomba americana. Bomba americana, se poi... Lo stavo raccontando ai miei colleghi ma non sarebbe più consono, penso. Va bene. Ok, allora... Mi sgridavano i bagnini, facevo abbastanza danni come sprutti d'acqua. Bene, tornando a cose più serie, abbiamo un incidente come ultima notizia bomba, stiamo andando su un incidente, anzi non siamo neanche arrivati, in strada e fiume all'intersezione con la strada di Basovizza con feriti. Non sappiamo dirvi l'entità, ripeto, abbiamo appena ricevuto la notizia e abbiamo mandato la pattuglia. Per il resto ancora un incidente conferito in via Valmaura, niente di serio nella mattinata. Ci sono vari lavori, potatura alberi, strada costiera e anche in via degli Stella. In viali d'annunzio c'è uno scavo sulla destra a salire dopo l'argo sonnino, perciò attenzione. Il traffico era abbastanza sostenuto per la stagionalità, diciamo notevole traffico veicolare, numerose richieste per scavi di vietti temporanei. Ci sono dei lavori, anche questo è importante, sulla strada statale 202 Dir, praticamente è chiuso in parte a monte e a valle del Bivio Acqua, perciò attenzione alle deviazioni. Per il resto non ho altre cose importanti in agenda, vi restituirei la linea. Grazie, grazie a Degrassi anche per la notizia dell'incidente conferiti dunque in strada di fiume, Telequattro poi vi darà aggiornamenti nel corso del telegiornale della sera. Pagina sportiva, ottimo pareggio per 1-1 nel classico di mezza estate fra Triestina e Lazio in quel di Auronzo di Cadore. Il classicone di mezza estate si chiude con buone indicazioni per mister Santoni e la sua rinnovata Triestina. Per l'ottava volta consecutiva le due società e tifoserie gemellate si sono ritrovate ad Auronzo di Cadore. Sotto una pioggia battente l'Unione ha fermato la Lazio sull'1-1. Prima dei gol da segnalare l'esordio di Rossi in porta, come previsto il 4-3-3 come modulo. Germano terzino sinistro, Bilvel da destra, centrali Moretti e Rizzo, l'esordiente Vozza ex Cosenza centrale con Correia e Vallocchia vicino, esterni offensivi Vicario e della Zrac con l'Escano di punta. Le emozioni arrivano in modo quasi istantaneo, con Struna che atterra in area Patric dopo meno di 8 minuti di gioco. L'arbitro non ha dubbi ed affida il rigore. Guendozzi dal dischetto è pressoché perfetto e l'Unione va subito sotto. La Triestina però contiene molto bene gli avversani, propone buoni spunti di Vicario e della Zrac e impedisce ai bianco-celesti il raddoppio. Nella ripresa si vedono anche Tonetto, Celeghine e Attis. Torna in campo anche Vertainen che ricomincia da dove ci aveva lasciato a fine stagione. Dopo un tiro sopra la traversa c'entra la rete del pareggio calciando a più riprese per poi vedere il pallone entrare grazie a una deviazione decisiva di Lazzari che rende impossibile l'intervento del portiere. Lazio chiaramente ancora imballata dalla preparazione, Triestina più brillante e addirittura vicina alla seconda rete nel finale. Per il momento più che bene così. Parliamo invece di basket, Palacanesto Trieste e Jace Johnson il pivot nel mirino del general manager Mike Arceri per rinforzare la rosa in vista dei ritorni in a uno, mentre sembra sempre più probabile il ritorno in bianco-rosso anche di Justin Reyes. Sentiamo. Si muove bene in pick and roll, 2 metri e 12 di altezza, è un grande lottatore d'area Mancino, oltre che un rimbalzista di livello vista anche l'imponente apertura all'area. Non chiedetegli di aprirsi sul perimetro anche perché non serve, potremmo aggiungere, vista la propensione a farlo sia di Candussi che di Brooks, né di saltare al ferro come un fenomeno, ma molto semplicemente di presidiare l'area, fatto certamente di sua competenza. E' questo ritratto cestistico di Jace Johnson, il centro nel mirino della Palacanestro Trieste, al termine della Summer League di Las Vegas, dove il GM Arceri e coach Christian hanno concentrato le loro attenzioni sui big men, anche considerando che per l'ultimo tassello straniero del 5 più 5 crescono nelle ultime ore le quotazioni per un ritorno a Trieste di Justin Reyes. Il 27enne Johnson ha giocato nella G League nei Motor City Cruises di Detroit, registrando quasi 11 punti a partita e 10 rimbalzi. Nell'immagini lo vedete in azione anche con i Santa Cruz Warriors nella stagione precedente, dove alterna schiacciate al ferro, finte nel traffico e soprattutto dimostra grande carattere impitturato, elemento questo che chiaramente manca nel roster attuale della Palacanestro Trieste dopo l'addio di Giovanni Vildera. Resta da capire se la trattativa si chiuderà nelle prossime ore o arriveranno nuove interessanti opportunità per una squadra che a livello di piccoli, con Ross, Brown e Ruzier, ha già un trio di leader nel motore di livello assoluto. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco per il resto del TG. Bentornati, bentornati in seconda parte del nostro TG, torniamo a parlare di sanità, cresce il numero di dirigenti medici affarenti a Trieste che sottolineano la sperequazione con Gorizia per quanto concerne i premi performativi. Il confronto, risponde il direttore generale Poggiana, non è coerente. Rivediamo il servizio di Umberto Bosazzi. Si allarga la protesta nella sanità del Friuli Venezia Giulia, causa la diversità nelle retribuzioni tra l'area giuliana e quella isontina legate alla performance organizzativo collettiva relativa agli obiettivi raggiunti nel 2023 dalla dirigenza medica. Ad oggi i firmatari della lettera in cui si chiedono delucidazioni alla direzione Asugi sono complessivamente oltre 280 dirigenti, fra cui alcuni direttori di struttura complessa. All'area giuliana, gli ospedali di Catinara e Maggiore, è stata attribuita una retribuzione di 700-800 euro lordi, a quella isontina, Monfalcone e Gorizia una retribuzione sette volte superiore, oltre 5.000 euro lordi. I medici parlano di estremo sconcerto e rammarico e chiedono che il divario di trattamento economico venga definitivamente colmato e corretto. La replica di Antonio Poggiana, direttore generale di Asugi, non si fa attendere. I valori medi della retribuzione del risultato erogati per area territoriale devono essere rilevati considerando anche le quote erogate per i progetti per la riduzione delle liste, scrive, in quanto parte integrante della retribuzione del risultato. Quindi, secondo Poggiana, il confronto tra la quota della collettiva di area giuliana con la collettiva di area isontina non è coerente. La direzione è fermamente intenzionata a realizzare l'obiettivo di una corretta perequazione del trattamento economico dei dirigenti medici dell'azienda, aggiunge Poggiana, evitando divari di sorta. Dunque, Asugi rideterminerà i fondi contrattuali dall'esercizio 2024 anche alla dirigenza dell'area sanità, utilizzando la quota di perequazione assegnata anche a questa azienda da parte della regione. Poggiana precisa che nel 2023, per ridurre le liste di attesa, Asugi ha investito soprattutto in progetti con un significativo impegno orario dedicato, che ha comportato conseguentemente una retribuzione di risultato più elevata rispetto al valore medio per quei professionisti che hanno partecipato a queste linee progettuali specifiche, come da accordi sindacali. La differenza di quota media individuale nella retribuzione di risultato collettiva deriva sostanzialmente dall'utilizzo, nell'esercizio 2023, dei residui degli esercizi precedenti che hanno incrementato in maniera cospicua il fondo di risultato del medesimo esercizio 2023. 1,6 milioni per l'area giuliana e 1,9 per quella isontina. I residui sono stati quasi interamente destinati per l'area giuliana, specifica Asugi, una quota media pari a circa 4.200 euro per il personale che potenzialmente ha partecipato alle progettualità, mentre per l'area isontina i residui sono stati destinati in parte, 536 euro, alla riduzione delle liste, mentre la quota restante ha la retribuzione di risultato collettiva. Questo ha determinato la differenza. Allora, si girerà a Trieste una serie tv spagnola, giunta la seconda stagione, dal titolo Memento Mori, le riprese imporranno una serie di limitazioni al traffico. Ufficialmente nessuno sa nulla, ma molti sanno che è una serie tv spagnola, targata Amazon, quella le cui riprese imporranno una serie di provvedimenti alla viabilità in alcune vie del centro cittadino. Si comincia martedì 23 luglio, dalle 14 alle 18 sarà in vigore un divieto di transito veicolare pedonale lungo via Roma, fra l'intersezione con via Valdirivo e quella con via Mazzini. Il giorno dopo, mercoledì 24, dalle 13 alle 19, lungo la direttrice piazza di Donota, via Donota, via del seminario, tra l'intersezione con Largo Riborgo e quella con piazza San Cipriano e via del Castello, la circolazione veicolare pedonale sarà sospesa e gestita da movieri in modalità stop and go della durata massima di 5 minuti. Stesso provvedimento, sempre mercoledì 24 e sempre dalle 13 alle 19, lungo via degli artisti, fra l'intersezione con piazza Benco e quella con via Donota. Ancora mercoledì 24 luglio, dalle 14 alle 24, divieto di transito veicolare pedonale lungo la direttrice salita dei Montanelli, via dei Capuano, fra l'intersezione con via Santi Martiri e quella con piazza Cornelia Romana e in via Ciamician, fra l'intersezione con via dei Capuano e con via dei Fabri. Dalla mezzanotte e fino alle 15 di giovedì 25 luglio, divieto di transito veicolare pedonale lungo la direttrice via della Mudavecchia, piazza Piccola, largo Granatieri, via Malcanton, fra le intersezioni con via del Teatro Romano. Infine, sempre giovedì, la circolazione veicolare pedonale sarà sospesa e gestita da movieri in modalità stop and go della durata massima di 5 minuti in via Battisti, nel tratto antistante il Caffè San Marco. La serie, non visibile in Italia, giunta alla seconda stagione, si intitola Memento Mori e racconta le vicende di un serial killer che lascia dopo ogni delitto un riferimento letterario. I riferimenti a Joyce portano la trama nella nostra città. Ancora una volta dunque, Trieste approda su una piattaforma. Lo scorso anno in città si è girato Heads of State con John Cena, scatenando il malumore di più d'uno proprio per le restrizioni collegate alle riprese. Né di questo film, anch'esso targato Amazon, né del sequel di The Old Guard, girato due estati fa per Netflix, con Charlize Theron e Uma Thurman, si conosce ancora la data di distribuzione. Allora, risolto il caso della porta del Vespasiano di Barcola, di cui si era occupato Umberto Bosazzi in settimana e che è il caso che è arrivato, di fatto una soluzione anche, grazie a Telequattro. Il comune è stato di parola. Ora il Vespasiano che si incontra all'inizio della pineta di Barcola in direzione Topolini può contare su un elemento indispensabile, ovvero la porta che mancava, di velta da non ci si può manco immaginare chi, già all'inizio della bella stagione. Non più dunque mariti o mogli o genitori costretti a fare da guardiani provisti o meno di un telo per garantire un minimo di privacy, appunto la possibilità di usufruire dei servizi in tranquillità. Anche se molti fra i frequentatori più o meno assidui del manufatto sottolineano quanti siano gli episodi minimi di danneggiamento o incurria che si verificano costantemente a fronte dell'attenzione che il comune o chi per esso dimostra nei confronti delle esigenze di chi lo utilizza. Ad esempio le salviette e il sapone sono costantemente riforniti. Osservando le immagini vi sarete accorti di una differenza rispetto a quelle realizzate mercoledì mattina. Una delle pareti esterne del manufatto sembra lordata. In realtà per posizionare la nuova porta è stata tolta parte del sistema scorrevole precedente, sporcato quindi tempo fa e non di recente. Resta tristemente vero che fra i bisogni di qualcuno c'è sempre anche quello di far vedere a più persone possibile di quelle pasta egli sia fatto. Penso davvero la firma non in realtà ma con il suo pezzo Umberto Bosazzi che di fatto ha risolto il caso grazie anche a Tele4. È tutto, ci vediamo questa sera alle 19.30. Restate con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.